Ben trovati al meteo, bel tempo al nord est, il nostro territorio infatti gode di una breve pausa anticiclonica, il dettaglio di giovedì 8 ottobre. Sul Veneto generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà sereno o al più localmente poco nuvoloso. Durante le ore più fredde in pianura nonché sugli altipiani e nei fondovalle saranno probabili delle foschie o nebbie. Temperature stazionarie minime fino a 13 gradi, valori massimi compresi invece tra i 17 e i 22 gradi all'incirca. Tempo stabile poi anche sul Friuli Venezia Giulia con ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso, non sono attese piogge. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime sui 19 e 21 all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo, qualche addensamento sui settori di confine ma senza precipitazioni. Temperature minime sugli 8 gradi, massime invece sui 19 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie a tutti.